Pubblicato per i tipi della Volturnia Edizioni sta riscuotendo ampi successi di critica e lettori il volume come Velame che cade, viaggio lirico nelle terre di Molise, scritto da Valentino Campo, autore, critico letterario e direttore artistico del prestigioso Art Festival Poietica. Un viaggio lirico e onirico dove ad accompagnare i versi di Campo sono le fotografie in bianco e nero di Pino Bertelli, fotografo di rilievo internazionale. Nasce dalla collaborazione del fatto che per caso Pino Bertelli aveva letto un testo che poi ha voluto all'interno del Velame, un po' emetto che avevo scritto nel 2010, la Quarta Guerra Sanitica. Mi ha chiamato e da lì ci siamo conosciuti, poi è venuto qui in Molise, è venuto anche in occasione di Poietica e abbiamo pensato a questo lavoro sul Molise. Il Molise è in questo caso un espediente letterario per raccontare il dolore, la solitudine, le ferite e le crepe della vita dalle quali tuttavia entra una luce che offre un orizzonte a dispetto del tempo che passa. È uno scavo all'interno di questo territorio che diventa appunto pretesto per trattare delle tematiche che sono universali quali l'esilio, quali la morte, quali la solitudine, quali l'abbandono e quindi dal punto di vista fotografico fotografico Pino ha accolto quelli che erano gli elementi particolari per farli diventare universali. Dal punto di vista lirico, diversi, io ho cercato di tenere quello che è il mio ritmo interno, cioè quello dettato dalle letture, da maestri che in qualche modo mi hanno guidato, parlo di Luzi, ma di Dante, parlo anche di, ad esempio, di molta letteratura contemporanea tra la russa e quella americana. Da queste crepe entra anche la luce. Sì, assolutamente, sì, assolutamente. Sì, l'abbandono non è la descrizione dell'abbandono, anzi è la descrizione del racconto della vita appunto di coloro che sono passati, coloro che hanno attraversato questa terra di Molise. Penso ai tanti dimenticati, ai tantissimi che sopravvivono nella memoria e alcune volte sopravvivono soltanto in quei luoghi che hanno abbandonato. C'è quella foto del casolare che è stato predato da questa pianta di fico che spunta sul davanzale e spunta dalle finestre. Come scrive Rossano Pazzagli nella sua prefazione al libro qui non ci sono contadini o pastori, l'ottica è come rovesciata, sono proprio la terra e il tempo più che l'uomo i veri protagonisti delle poesie di Valentino Campo e delle fotografie di Pino Bertelli. Questo è un libro, ci sentiamo di aggiungere, dove si avverte il buio e il silenzio e al tempo stesso il lampo e il fracasso.